Ok Fede, Holly the Boots, ti faccio vedere una parte di una foto, precisamente la scarpa, parte del parastico e il calzettone e tu mi devi indovinare che giocatore è. Vai! Ci sono un po' di foto, questa è la più difficile, poi vado avanti, se non la trovi... Guarda, posso farti un po' più facile. Ti preoccupa. Eh, vedi. L'hai già indovinato? Sì. Eh, vedi, vedi. L'occhio. Questa... Eh, questo è il fenomeno, Ronaldo. Mamma mia! Questa è già difficile, eh? No, aspetta, aspetta, aspetta. Dimmi quando, io vado sotto di uno. Marchisio? No, vabbè. Marchisio? Come hai fatto? È perché ho visto Juve e questa ce l'aveva in finale... Iniezione al dettaglio. Questa è in finale di Champions, mi sa. Può essere. Può essere. Può essere. No, se non vieni questa... No, dai. Modric. Giura. Ma l'hai già visto? L'avete già detto, dai. L'hai già detto. È Modric, davvero. Eh, vabbè, ho capito. Ma dà un pezzettino nel parastico. Qua lo metto in difficoltà. No. Questa non puoi indovinarla. Così non puoi indovinarla. Allora, te lo giuro. Te lo giuro. Ho visto un video di lui qualche giorno fa. Questo è Hazard o Frank Ribéry? No, vabbè. Non è vero. È Frank Ribéry. Pazzesco. Ho visto un video e avevo questo scarbo. Cristiano, 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 Cristiano. Cosa neanche è rovesciata, Cristiano. Neanche ho arrivato all'immagine. Questo sono io. Vabbè, dai. È troppo facile, l'abbiamo fatto. Siete, è perfetto, c'è che dire. Perfetto, folle. Sì, ma dopo fate vedere l'immagine perché sembra che me la vedete. Assolutamente sì. No, perché... Abbiamo capito ma neanche un briciolo di uno. Ce l'ha durata tutta. Ciao.